Due progetti per andare a recuperare due spazi completamente abbandonati. Giovedì sera nella sala consigliare di Palazzo Mezza Barba, l'assessore all'urbanistica COC ha illustrato alla maggioranza le modalità di recupero dell'area ex NECA e della Dogana. L'amministrazione è molto soddisfatta perché in questo periodo stanno andando avanti iniziative che si erano interrotte, quindi grande attenzione sulla rigenerazione, grande attenzione e grande entusiasmo degli operatori sulla rigenerazione di aree dismesse a Pavia. Ieri in maggioranza abbiamo presentato due progetti strategici fermi da anni e che proprio nel mese di maggio hanno presentato dei preliminari aggiornati, quindi riavviando l'itero urbanistico e l'itero ambientale. Abbiamo creato due progetti, uno relativo alla recupera dell'area ex NECA, fermo oramai da più di dieci anni, e uno relativo al progetto di riqualificazione dell'area della Dogana, quell'area strategica posta ridosso del cimitero monumentale di San Giovannino. Progetti molto interessanti, molto vari, quindi complementari tra loro perché prevedono funzioni differenti uno rispetto all'altro e si integrano perfettamente con le ipotesi progettuali presentate la settimana scorsa con il piano di recupero dell'area ex NECA. All'interno della ex Dogana, in particolare, troverà spazio una nuova scuola media, mentre alla NECA il progetto punta alla Green City. I progetti trattano aspetti molto differenti fra loro, però è molto importante il riscontro di interesse pubblico che riversano queste aree. In particolare, sull'area della Dogana esorgerà una scuola secondaria di primo grado, di nuova realizzazione, da quattro sezioni, quindi decongestionando il centro storico e spostando su una struttura sicuramente innovativa e moderna una sezione scolastica che oggi invece è in centro storico. La NECA è un progetto iniziato nel 2009 con Fuxas, con un progetto iniziale, già sottoscritto un accordo di programma nel 2011 che poi è saltato perché non è stato più rinnovato. Oggi viene riproposto in un'ottica sempre di Green City il progetto dell'area NECA dove vengono previsti strutture sia residenziali che terziarie per uffici che il centro sportivo verrà riqualificato dall'edificio della riseria con attività sia ricreative che commerciali come bar e attività commerciale piano terra.